Un piede nel passato e uno sguardo aperto nel futuro. Questo il motto con il quale si è aperta la riunione delle società di serie di Aroma 101 Club presenti. E' una notizia importante da celebrare. Dopo tanti anni il numero degli under obbligatori da schierare in campo passa da 4 a 3 per le prossime due stagioni. Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale, Lega Nazionale di Lettanti. E' un campionato in cui gli under sono determinanti ma sono determinanti non per il loro utilizzo ma per la crescita tecnica e la formazione calcistica di tutti i ragazzi nel corso dei vari campionati. Per cui si andrà verso una riduzione di un'una unità degli under nell'utilizzo del prossimo anno ma si manterranno delle categorie delle classi di età come il 2004, 2005 e 2006. Uno per ogni classe di età anche perché siamo stati anche lì attenti a valutare quelle che sono le riforme adottate nei campionati primavera dei campionati professionistici. L'incontro è stato anche occasione per rimarcare il lavoro che la Lega Nazionale di Lettanti sta portando avanti per attenuare la portata della legge sulla riforma del lavoro sportivo. Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale di Lettanti. Adesso si tratta di verificare quali sono i correttivi da apportare e quindi questa stagione è importante, determinante per capire quali effetti ci sono in relazione alla riforma. La Serie D aveva già gli accordi economici, quindi aveva già una situazione che pur diversa dai contratti lavoro sportivo prefigurava una situazione di contrattualizzazione dei tesserati, mentre per le altre categorie ciò non avveniva. La Lega Nazionale di Lettanti continua il suo percorso con grande sentimento e passione. La strada per il futuro è tracciata.